Dopo l'ottobre più caldo di sempre, la seconda decade di novembre si sta addentrando in temperature più tipicamente autunnali e a Pesaro è cominciata un po' ovunque l'accensione dei riscaldamenti. Il regolamento per la zona climatica D, in cui è compresa la nostra area geografica, prevede l'accensione degli impianti termici fino al 7 di aprile per un massimo di 11 ore al giorno, comprese fra le ore 5 e le ore 23. La temperatura in casa consentita è di 19 gradi, estendibile a 2 gradi di tolleranza. Regole comunque di difficile controllo, ma indicative di un senso civico che in questi 11 mesi di 2023 ha permesso a Pesaro di migliorare dal punto di vista di emissioni delle polveri sottili con 8 sforamenti delle PM10 su 35 annui consentiti. Un ottimo risultato considerando che nel 2022 il limite venne sforato 31 volte. Un buon impatto ambientale da preservare anche con la nuova ordinanza che fino al 15 aprile vieterà l'ingresso nelle cosiddette zone blu cittadine ai veicoli diesel fine Euro 3, benzina fine Euro 1 e motorini pre Euro, di vieti che saranno in vigore nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.